scusami scusami no 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 scusami fermi fermi no ho detto no scusi scusi ma devi prendere il caffè dai per favore muovete per andare per favore per favore fuori fuori buongiorno no no buongiorno ma è il potto il mio vabbè ok comincio io? si si vai che sta benendo ancora dobbiamo iniziare capita la conferenza stampa visto che vanno così in televisione questa è la mia mia conferenza stampa e bevo per piacere per piacere allora volevamo un attimino spiegarvi la situazione ma può giocare a telefonino mentre facciamo la conferenza stampa? però qui tanto non c'è eh? fatemi parlare la nuova argenta perché c'è? perché c'è? un attimino volevamo smorzare queste polemiche nate in due giorni perché il nostro Simone è andato a firmare un contratto con una grossa azienda senza dirci niente e adesso noi vi mostriamo il filmato della discordia abbandonare il superfluo ammirare l'essenza riscoprire l'eleganza finalmente libera di esprimere se stessa nuova Y5 porte l'eleganza è un diritto scoprila negli showroom lancia a proposito volevamo comunicare che il giorno dell'uscita della nuova puntata di social network e communication si sposta dal venerdì a lunedì ciao a 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 Grazie a tutti